Una lezione sicuramente diversa dalla solita, quella a cui hanno assistito questa mattina gli studenti di alcune classi del liceo Dante Alighieri, in cattedra Antonio Patuelli, presidente dell'Associazione Bancaria Italiana e della Casa di Disparmio di Ravenna, per affrontare temi di economia come le crisi internazionali, i cambiamenti del mondo bancario, attraverso un metodo critico e analitico. Ho ben accettato di buon grado l'invito della preside del liceo classico di Ravenna, che mi fa incontrare delle scolaresche, di studenti degli ultimi anni del liceo che sono interessati a questioni economiche e di conseguenza li condurrò nei problemi della crisi internazionale, di come nascono le crisi, della crisi italiana nella crisi internazionale, da che cose influenzate innanzitutto il debito pubblico, i grandi cambiamenti in corso nel mondo bancario, soprattutto europeo, e di conseguenza una strategia razionale e critica che sia un approccio innanzitutto metodologico ad analizzare i fenomeni e avere una sana e prudente gestione dei propri orizzonti. Tematiche che forse non sempre ai ragazzi sono chiare o sono semplici da decodificare. Io cerco di usare un linguaggio totalmente comprensibile innanzitutto a me stesso, non imbastardito da altre lingue, lingue, bisogna conoscere altre lingue ma bisogna conoscere anche la propria e bisogna parlare nelle singole lingue in maniera coerente e uniforme, cioè non a mezzaderia, un po' italiano, un po' anglo-americano, come una volta si faceva, un po' in dialetto, un po' in italiano.